Due piazze importanti, due maglie che hai vestito, che ricordi hai dell'una e dell'altra squadra? Ma, beh, Avellino sono, diciamo, quasi due, non dico due bei ricordi, quello di Avellino sicuro perché abbiamo vinto. L'altro a Castellammare un po' meno perché è stata un'annata un po' particolare, siamo retrocessi e non è stata, diciamo, un'annata bellissima. Quella di Castellammare. Ecco, i ricordi di quella partita quando rientrò Biancolino, no? Che fece doppietta, che fu una grande vittoria per l'Avellino con la Juve Stabbi. Sì, sì, vabbè, quello è un ricordo, è un bel ricordo, è sempre, lo ricordo sempre con grande gioia, abbiamo vinto 4-2 il derby. Quindi, poi è entrato Biancolino, ha fatto doppietta, è stata, diciamo, una partita fantastica. Ecco, Gaetano, l'Avellino quest'anno ha preso Maniero, ha preso Mister Braglia, ha preso giocatori importanti, no? Sono delle garanzie, secondo te, per la Serie C? No, credo proprio di sì, perché Maniero è un giocatore di categoria superiore, penso anche all'allenatore, ha delle grandi doti. Quindi, credo di sì, credo che l'Avellino quest'anno farà un campionato ad alti livelli. Un messaggio ai tifosi dell'Avellino che purtroppo non possono seguire da vicino la squadra in questo periodo? Beh, lo so, è una cosa troppo, diciamo, per un tifoso non andare allo stadio, è dura, non so. Credo che i tifosi dell'Avellino ci faranno sentire anche al di là di andare allo stadio, quello sicuramente perché è una tifosera fantastica.